Arriva un brivido e ti trascina via e scioglie in un abbraccio la follia. Ecco Fresi, Ametrano, il cross nell'area di rigore, Giampaolo anticipato ad un soffio, poi prova a cacciare ancora il pallone, Giampaolo vi riesce, tocca per Tedeschi in area di rigore, cross ancora in mezzo, Vannucchi! E' gol! E' gol! E' gol del pallone, amici sportivi! Esplode da Vecchi, esplode da Vecchi con un grande gol! Ed esco in mezzo per Vannucchi e c'è il 2-1 per la Salernitana, tutti in piedi Vanni, tutti in piedi a festeggiare il gol della Salernitana! Al quarantatresimo minuto è 2-1, è 2-1 per la Salernitana! Vannucchi di testa è schiacciato imparabilmente da pochi passi, è il 2-1 per la Salernitana! Che dunque si rimette in corsa, 2-1 amici sportivi! Possiamo ancora farcela! 44 i minuti!